Pace e bene cari amici, bentrovati. In questa 25esima domenica meditiamo sul testo di Luca 16, 1-13, testo inerente il corretto uso dei beni materiali. Ecco un tema centrale proprio del capitolo 16 secondo Luca, tant'è che domenica prossima mediteremo sulla parabola del ricco e pulone che segue e parte dal versetto 19, tema che sta comunque molto a cuore a Luca. Vedete quante volte nel suo Vangelo ritorna sul pericolo di attaccare il cuore alle ricchezze e sull'importanza di avere a cuore i poveri, tant'è che potremmo definirlo non solo il Vangelo della Misericordia ma il Vangelo dei poveri. Andiamo al testo dal quale trarremo in particolare tre spunti. Anzitutto vi ricordo la parabola. Abbiamo un amministratore che è stato disonesto e viene chiamato a rendere conto dal suo padrone della sua amministrazione e viene avvisato che non lavorerà più per lui. Allora questo si ritrova a piedi e dice beh io mo che faccio? Lavorare, zappare, non ho la forza, mendicare, mi vergogno, devo farmi degli amici. E cosa fa? Nelle ultime ore di lavoro che gli restano inizia a chiamare i debitori del suo padrone e diminuisce il loro debito. Chiede al primo tu quanto devi al mio padrone? 100 barili d'olio? Ok scrivi 50, 50 sono abbonati. Tu quanto gli dovevi? 100 misure di grano? Ok scrivi 80, 20 sono abbonate. D'altronde era lui che amministrava tutto. L'amministratore viene lodato dal padrone e che il padrone dice ma guarda che furbo questo. C'è in questo testo ritroveremo poi l'aggettivo fronimos che proprio vuol dire viene tradotto con prudente ma scaltro, cioè una persona che usa l'intelligenza per scegliere bene in vista di qualcosa di grave, di urgente, e quindi usa la scaltrezza e che cosa fa? Si fa degli amici usando, potremmo dire, i beni, cioè i beni diventano uno strumento per farsi degli amici, mentre fino a ieri forse aveva usato delle persone per accumulare per sé. Allora il Signore coglie da questo spunto un insegnamento e dice guardate i figli delle tenebre, cioè le persone che vivono per sé stesse chiuse soltanto a un orizzonte terreno, cioè nel mondo, detto in soldoni, se le studiano tutte per guadagnare un po' di più, per farle scarpa un altro, per riuscire a risparmiare qualcosa. Ora tanto più voi figli della luce studiatevele tutte per entrare in cielo e dunque fatevi degli amici con la vostra disonesta ricchezza perché un giorno vi accolgano nelle dimore eterne. Che vuol dire? Farsi degli amici con le ricchezze disoneste vuol dire condividi ciò che hai con i poveri per farteli amici e un giorno quella sarà la tua ricchezza, i poveri e le persone che hai aiutato che testimonieranno per te davanti a Dio, quelle opere testimonieranno a tuo fadovore nel giorno del giudizio. E perché il Signore chiama la ricchezza disonesta? Uno potrebbe essersi arricchito o stare bene, non perché disonesto, ma perché nella prospettiva del Vangelo, in particolare secondo Luca, ogni forma di ricchezza tenuta per sé non condivisa ti porta ad essere ingiusto ed è in sé ingiusta. Infatti tra l'altro il termine in greco è adichia, che è ingiusto, cioè se io mi approprio egoisticamente delle cose io sto facendo un'ingiustizia verso chi non ne ha, perché io sono chiamato ad amministrare quei beni che sì mi sono guadagnato col mio lavoro, ma che a monte sono sempre di Dio e sono sempre dono suo. E il Catechismo della Chiesa Cattolica infatti dice che chi ha di più è chiamato ad essere amministratore della provvidenza di Dio anche per i più poveri. E questo veramente ci apre ad una gioia che vive chi sa condividere ciò che ha, perché anche psicologicamente più siamo egoisti, più siamo attaccati alle cose, più siamo preoccupati, più siamo ansiosi, più ne vogliamo e meno gioiosi siamo, più invece sappiamo condividere e più siamo felici anche noi. Allora vedete qui secondo me, apro una parentesi, sarebbe bello anche educarci all'elemosina nelle nostre case famiglie cristiane, no? Non so, alcune pennellate a mo' di idee. La domenica c'è l'offertorio dove si condividono soldi o si portano alimenti per i poveri, ecco viverlo come appuntamento perché lì non solo andiamo a incontrare Gesù ma incontriamo anche gli altri e tra questi altri, tra questi fratelli e sorelle ci sono anche i bisognosi e dunque la bellezza del condividere con loro. Pensate, questo era ancora più sentito dai primi cristiani che pregavano e celebravano nelle case e dopo la celebrazione eucaristica c'era la cena e i più ricchi portavano di più e i più poveri mangiavano insieme con loro. Tant'è che San Paolo dovrà rimproverare la comunità di Corinto quando dopo aver celebrato insieme i ricchi tiravano fuori il cibo e mangiavano e i poveri stavano lì e guardavano. Allora San Paolo dice ma a che vi serve aver celebrato insieme? Chi mangia e beve il corpo di Cristo e poi non lo riconosce vivo nel fratello mangia e beve la sua condanna. Allora vi dicevo che ne so la messa domenicale oppure studiarsi in casa all'angolino della carità che ne so un salvadanaio o qualcosa anche con i figli che può essere poi vissuto concretamente andando a fare qualcosa insieme e portarlo insieme a chi ha bisogno oppure non so mi veniva in mente un bravo monaco e docente di sacra scrittura che mi raccontava di un suo amico ebreo che in un certo senso viveva la decima applicata al giorno d'oggi che nell'antico testamento era la decima parte che veniva donata al tempio a chi viveva al suo interno quindi offerta a Dio la decima parte dei beni del raccolto. Lui l'aveva così una parte del suo stipendio era destinato ogni mese all'elemosina quindi lui quando usciva aveva una borsettina dove portava delle monete per i poveri quando poi al mese lui finiva questa somma basta meno che di cose proprio gravi. Ora sono piste buttate lì anche molto semplici ma sarebbe bello educarci a avere occhi e cuore per gli altri non solo a Natale dove tutti siamo più buoni ma durante tutto l'anno chiusa parentesi. Il secondo grande spunto che prendiamo da questo testo è l'importanza della fedeltà. Infatti San Pietro a un certo punto chiede a Gesù signore ma queste cose le dici per noi o anche per tutti? Cioè per noi apostoli quindi per noi responsabili delle comunità, futuri responsabili o per tutti? È chiaro Gesù si riferisce a tutti ma queste cose valgono diciamo doppiamente per chi è chiamato a servire ad amministrare i beni e a servire ad aiutare gli altri quindi che ha incarichi di responsabilità e infatti racconta questa parabola del maggior domo che parte bene e finisce male nel senso che davanti al ritardo del padrone inizia a spadroneggiare a maltrattare a ubriacarsi a darsi a piaceri dissoluti e il padrone dice quando arriverà lo trova così secondo voi che gli fa? Allora il signore dice se uno non è fedele nelle piccole cose non lo sarà neanche nelle grandi e qui c'è innanzitutto un principio di vita spirituale potremmo dire universale cioè allenarci nella fedeltà nelle piccole cose fedeltà nei miei tempi di preghiera quel momento per esempio la mattina o la sera allenarci nella fedeltà nel portare avanti un servizio un impegno che ci siamo presi insomma allenarci nelle piccole cose perché vedete le piccole cose incidono su tutta la nostra vita non è vero che le piccole cose le piccole azioni o negligenze non hanno un'incidenza su tutto il nostro quotidiano no in latino la virtù si chiama abitus e l'abitus l'abito è una trama di fili vedete in un certo modo così è diventare persone virtuose persone fedeli anche nelle grandi cose si fa filo dopo filo potremmo dire come un mosaico tassello dopo tassello quindi primo punto la fedeltà in generale come valore prezioso no di essere fedeli anche nelle piccole cose ma qui in particolare poi il discorso è applicato alle ricchezze materiali tant'è che gesù dice se uno non è fedele nella ricchezza disonesta ma chi gli darà quella vera verrete qui signore ci fa capire che alla fine le ricchezze materiali non sono la vera ricchezza la vera ricchezza è altra è la grazia che dio ci affida è la sua parola sono le persone che siamo chiamati a servire chi da religioso da sacerdote da vescovo chi da non so da catechista da responsabile in un gruppo in un movimento ma chi da genitore chi con le persone al lavoro che ha accanto insomma è scoprire che la ricchezza materiale non è la ricchezza vera è qualcosa di passeggero è qualcosa che ci serve per vivere bene e ci serve per far vivere bene ma è diciamo una piccola prova allora riscoprire e vivere con fedeltà il servizio agli altri e usare bene i nostri beni e infatti l'ultimo punto e concludiamo il terzo l'ultimo detto di gesù e non si può servire dio e la ricchezza perché se servo dio le mie ricchezze mi serviranno per servire gli altri e vivere bene ma se servirò la ricchezza la ricchezza mi asservirà e io diventerò cieco ed egoista allora vogliamo chiedere la grazia al signore che davvero possiamo esaminarci in profondità e chiederci come stiamo vivendo innanzitutto il rapporto con i nostri beni che spazio ha l'elemosina la condivisione due l'esercizio nella fedeltà nelle piccole cose e tre che davvero possiamo servire dio con tutto il cuore e così essere più liberi di servire gli altri anche usando bene i nostri beni pace e bene grazie a tutti